Buonasera a tutti, vi do il benvenuto al TG7 Basilicata. Purtroppo ancora sangue sulle strade lucane, due motociclisti sono rimasti coinvolti in un grave incidente stradale in località Castro Cucco, tra Tortora e Maratea, lungo la statale 18. Uno di loro purtroppo ha perso la vita, originario di Praia Mare, ma residente a Maratea. Trasportato in gravi condizioni nei soccorso, l'ospedale di Cosenza è poi deceduto. Lascia la moglie e due figli. Il secondo motociclista, anche gli ferito gravemente, pare non essere in pericolo di vita. Ennesimo fermo produttivo nello stabilimento Stellantis di Melfi, che partirà dalle ore 22 di martedì 28 giugno fino a sabato 2 luglio compreso. Con questa ulteriore chiusura si chiude un mese di giugno con solo sette giorni di lavoro. Ma la cosa più drammatica è che anche il mese di luglio non si prospetta diverso. Nella sede del Comando regionale di Potenza, in occasione del 248esimo anniversario della fondazione del Corpo di Guardia di Finanza, sono stati riportati alcuni dati importanti relativi all'operato proprio della Guardia di Finanza dello scorso anno. Nel 2021 e nei primi cinque mesi del 2022, in Basilicata, la Guardia di Finanza ha eseguito 2207 interventi ispettivi e oltre 975 indagini per contrastare gli illeciti economico-finanziari e le infiltrazioni della criminalità organizzata nell'economia lucana. Sono stati 31 gli evasori totali identificati per un recupero di 4,4 milioni di euro. 88 invece lavoratori in nero scoperti nelle aziende. Vediamo come si prospetta la giornata di domani. Il tempo sarà un tempo stabile con nuvolosità di passaggio a tratti estesa. Temperature in lieve diminuzione. Per questa sera è davvero tutto. Io vi aspetto qui domani alla stessa ora. Grazie e arrivederci.